E anche oggi vado d'accordo con gli altri. Sono diventato un mostro. Non può finire così. Ottenere la vendetta fa parte di me. Chi mi avrà messo qui? Ti ho tenuto d'occhio per 15 anni. Vendicarsi è la cura migliore per qualcuno che è stato ferito. Prova anche tu. Tu non volevi vendicarti, vero? Volevi solo sapere perché eri stato imprigionato? Da quanto tempo. Che succede una volta che ti sei vendicato? Scommetto che il dolore tornerà a cercarti. Una volta ottenuta la mia vendetta, potrò mai tornare ad essere il vecchio Teesu. E' anche se si chiama la성, potrestru all'escianda di K. Che succede ma per lui? Grazie a tutti.